Sì, come si chiude? No, è tutto stretto. No, non ti passi. Se c'è qualcosa in pieno, non lo so. Il problema è che sarà più vuoto. Temo il pino. Oh! Temare omo, oddio! Ma sei come le pighe. Si mettono vent'anni a prepararsi. Ciao, 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 ciao. Come va la famiglia? Tutto vent'anni. All'unmoc. Io ti vi vorrei fidare in questo momento. Vieni dietro di me con la mini moto, affidati che ti conviene. E questi due. Eh, lo so, ma qua ti ho fatto prendere guardrail questo. Eh, lo starete molto bene. Vediamo qua sta inquadrando così. Scherba è nero, cazzo. Tanto caduta, si nota anche se la guardi in basso. Andiamo in un parcheggio privato così casteggiamo con le moto. Devi girarti, eh. Devi girarti. Vistra. 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 Vedi. Vistra. Vistra. è la messa all'ultimo io ti muoio qua dietro credo che piendi già ino qua per terra frat credo che piendi già ino qua per terra frat non tirare in profondo non puoi fare così ma che è veramente colpa tua non puoi fare così ma che è veramente colpa tua dai ho capito ma lui stava tirando dritto tu hai fatto zig zag voi siete bene? è vero che altro robot ha preso in faccia? vabbè abbiamo il contento anche questa volta c'è qualcosa in faccia che mi sento di quel momento che mi sta rientrando all'interno no oh frai non hai grassato un c***o a parte qua non ti ho avuto un faccioletto? per cosa? eh perchè se no mi spurco le scarpe qua c'è il passeggero quello che ha dato a peggio e io per evitarti più che altro perchè mi sono quasi lanciato però fammi vedere il cielo si sta bene ma vero bello qui è il sicuro a posto stateci dietro raga io di solito io Berto e i navi stiamo sempre a casa di giocare al computer l'unica volta che usciamo danni non 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 non